Ciao, hai da scrivere? Si spiego come si costruisce una casa del sole. Prendi un'occasione speciale e regala alle bomboniere il sole in dono. Sono piccole come una casetta e grandi come la solidarietà. Pochi gesti per costruire muri e tetto. Un grande gesto per sostenere la scuola e le terapie con cui Casa del Sole realizza i B sogni di bambini e ragazzi disabili. Perché non le regali anche tu? La donazione è libera. Casa del Sole, dove si dona calore. La donazione è libera.